E' il pendente di Elisa. Quello con dentro una foto di voi due. Lo stesso che lui avevi dato. Ti dico qualcosa. E' un falso! Da rassarla per forza! Non c'è modo che... Che il tuo assassino non l'abbia distrutto, dici? L'hai mai amata, Morris. O hai sempre avuto l'intenzione di ucciderla? No, no, no! Ti prego! Ascoltami! Avevo detto ad Elisa di mantenere il secreto! L'ha pagata per il suo silenzio! Non potevo immaginare che lo avrebbe tenuto! La verità sarebbe venuta fuori! Non ho avuto scelta! Mi è costretto a farlo! Ma! Ti imploro! Ho dei soldi! Dimmi! Dimmi solo quanto vuoi, per favore! Puoi tenerti i tuoi soldi e andartene all'inferno.